Educare i più giovani alla legalità, spiegare loro che non si tratta solo di doveri da assolvere, che un comportamento viziato o una maleducazione mette in moto ingranaggi più grandi, da vita ad abitudini sbagliate. Maestro d'eccezione per gli studenti dell'Istituto Gemelli di Leporano, il comandante provinciale dei Carabinieri, Giovanni Di Blasio. I ragazzi sono molto ricettivi, secondo me molto più degli adulti, e sono anche molto stimolanti, quindi non credo che ci siano muri da battere, c'è soltanto qualcosa da costruire insieme forse. Noi facciamo questa attività in modo ormai abbastanza rutinario in tutte le scuole della provincia, attraverso l'apporto dei comandanti di compagnia e dei comandanti di stazione, quindi per noi ormai è diventato tutto sommato normale il dialogo con la scuola, ma proprio perché attribuiamo a questa attività una grande importanza, perché cerchiamo di coinvolgere i più giovani in questo più ampio progetto di legalità che deve certamente accumulare tutti. Interessati i ragazzi, la prevenzione, ha detto loro il comandante Giovanni Di Blasio, li deve coinvolgere anche nelle piccole cose. È una lezione impegnativa, importante, che ci aiuta a capire la vita. Nella prevenzione bisogna essere tolleranti, un euro dato oggi al parcheggiatore abusivo può diventare un'estorsione, così come il bullismo può essere l'anticamera dell'associazione mafiosa, e persino una carta lasciata per strada può generare una discarica. Grazie. Grazie.